La dea della bellezza, Afrodite, era famosa per il suo potere di seduzione. Un giorno, mentre passeggiava tra le nuvole, vide un giovane pastore di nome Adone. Adone era così affascinante che Afrodite decise di mettere alla prova il suo potere. Si trasformò in una fanciulla e si avvicinò a Adone mentre pascolava il suo gregge. Con un battito di ciglia, fece innamorare follemente il pastore, facendolo perdutamente innamorare. Adone era disposto a fare qualsiasi cosa per lei, persino sfidare il dio della guerra, Ares. In un momento di gelosia, Ares inviò una bestia feroce per attaccare Adone. Ma Afrodite, non volendo perdere il suo amato, intervenne. Combatté la bestia con tutta la sua grazia e potere, riuscendo a sconfiggerla ma non prima di essere lei stessa ferita. Il sangue di Afrodite cadde sulla terra e da esso nacque una rosa, simbolo del suo amore per Adone. Così, anche se la bellezza di Afrodite poteva sedurre chiunque, fu il suo coraggio e il suo amore che dimostrarono la sua vera divinità. La lezione qui è che l'amore e la determinazione possono superare qualsiasi ostacolo, anche per una dea come Afrodite.